Eccoci qua, tutte e due con la scopa in mano, in realtà la Befana è lei ma io tengo la scopa e ora gliela regalo perché vi vogliamo, tienila tu da vera Befana, no sta scherzando perché per l'epifania vi regaliamo uno spettacolo non è gratis, 5 euro quindi è quasi regalato, il 5 e il 6 giovedì e venerdì, non sabato e domenica giovedì e venerdì 5 e 6 all'Ideal faremo, replicheremo perché l'abbiamo fatto l'anno scorso con grande successo che maniere, che maniere non è un modo di dire per dire che siamo tutti maleducati ma è una metafora di uno spettacolo che contiene in sé 5 spettacoli, venite venite voi fate parte dello spettacolo Marta e Flavia, sono piccoline venite qua, sono 5 storie diverse per rappresentare 5 generi teatrali diversi, questo spettacolo è fatto da grandissimi piccolissimi attori, sono il gruppo junior o junior che dire si voglia della compagnia Godot lui non c'è, lui è il più piccolo, ma lui ci sarà prossimamente allora qua abbiamo alcuni rappresentanti, abbiamo Marta, abbiamo Anna che è la nuova, nuovissima arrivata che però userà l'addizione, Flavia, abbiamo Giulia e abbiamo Federica la veterana e poi c'è anche Giuseppe che non è qua in questo momento, si è allontanato c'è una partecipazione straordinaria di Giuseppe è uno spettacolo divertentissimo che va bene per i piccoli perché è fatto da piccoli per i ragazzi ma è anche per adulti perché affronta anche delle tematiche importanti anche per adulti la particolarità di questo spettacolo è che l'anno scorso quando è nato, per giugno è nato da 5 penne differenti, noi abbiamo chiesto ad alcuni allievi del nostro laboratorio senior di scrivere qualcosa per i più piccoli e quindi sono 5 storie diverse con 5 autori diversi e allora io ho scritto qualcosa, un piccolo canovaccio per un assaggino di commedia dell'arte e poi hanno scritto Emiliano Failla, ha scritto Sara Cascone che è presente qui con noi Sara, Sara Cascone, ha scritto Lorenzo Pluchino che sta arrivando a momenti sarà qui come sempre è vero, è dietro la telecamera non si vuole fare vedere va beh, è indaffarato e Giancarlo Iacono che è il nostro amico attore con cui ogni tanto collaboriamo quindi 5 stili diversi, 5 generi teatrali diversi, molto comico, molto divertente, molto vario cosa possiamo dire per spingere il pubblico a vederci nonostante la solita e immancabile allerta meteo, ghiaccio, tempesta, neve, grandine, fuoco e vento che è già previsto per il 5 e il 6 naturalmente, cosa possiamo dire? Venite perché sarà una sensazione indimenticabile bene, brava, brava perché io sono una brava e buona narratrice, simpatica ma diventerò tanto cattiva se non arriverete venite a teatro, solo questo dobbiamo dire anche se c'è l'allerta meteo, se il vostro figliolo bellissimo ha la febbre non ci importa, dovete venire perché a teatro si guarisce tutto bene, benissimo con questo auspicio noi vi invitiamo il 5 e il 6 all'Ideal in piazza Libertà ma poi non è vero che c'è l'allerta meteo a giovedì alle ore 19.30 e venerdì 6 alle ore 18 e i biglietti sono in prevendita da Bedamarcio in via Coffa oppure direttamente al botteghino e costano soltanto 5 euro portate tutta la famiglia, grazie io, ah no, finiamo, approfittiamo per dire altro no, no, e poi ci saranno altre novità vabbè, ne facciamo un'altra intervista va bene, ciao TG ciao TG